Salve a tutti, allora in questo video voglio trattare quello che mi è stato chiesto da più colleghi in maniera diciamo come qualcosa di importante e allora l'affrontiamo. Mi è stato chiesto il percorso didattico perché parlando di unità didattica, unità di apprendimento, unità didattica di apprendimento nel precedente video comunque ho sollevato in voi che siete persone comunque preparate, che stanno nel mondo della scuola, che conoscono ovviamente tante questioni, ho sollevato altri dubbi. Allora, come premessa, le premesse sono sempre secondo il modello costruttivista e bisogna sempre partire dall'apprendimento. Ovviamente dall'apprendimento del discente che è una figura centrale, come abbiamo detto, che ristruttura e destruttura i modelli interpretativi della realtà. I modelli di percezione, perché la realtà viene percepita e poi interpretata, di percezione della realtà. È un processo a volte anche doloroso perché ovviamente dove si trova il dolore? Diciamo questo, mettiamolo tra virgolette, cioè scusate, proprio tra parentesi, cioè non lo dite perché stiamo parlando più a livello psicologico. Ovviamente nella crescita culturale bisogna mettere in discussione i modelli, i punti di riferimento già acquisiti e bisogna, chiamiamolo così, far morire una parte di noi, far morire una parte che si fidava di determinati contenuti. Perché noi, come a livello magari più facile da comprendere, ad esempio, non so se in 7-9 anni, tutte le nostre cellule cambiano e la nostra pelle si rinnova continuamente, il nostro sangue si rinnova continuamente, così anche la nostra mente si rinnova, si ristruttura. Però quando si rinnova e quindi disconosce qualcosa di precedente per ricondursi a qualcosa di nuovo, ovviamente si prova anche dolore. Cioè la crescita è anche sicuramente dolorosa. Però ovviamente questa è un'aggiunta che a mio avviso potete lasciar perdere perché potreste passare pure per incompresi. Cioè, quando voi farete il concorso, io sono sempre felice di rispondere alle vostre domande, però il contenitore deve essere grande almeno come il contenuto. In questo caso i vostri commissari dovrebbero sapere almeno quanto voi, ma se voi andate a trattare delle cose che nemmeno i vostri commissari conoscono, rischiate di non essere magari valutati per quello che valete veramente. Allora io vi dico sempre di fare una prova umile, ben strutturata, diciamo che può essere trasversalmente riconosciuta valida e vi sconsiglio di essere troppo originali, creativi, di discostarvi troppo da quello che è trasversalmente accettato da tutti. Quindi bisogna scegliere scelta dell'argomento e quando si sceglie l'argomento che quindi può essere trasversale con altre discipline può avere un particolare evento formativo può essere trattato con metodologie più o meno attive può essere un argomento noioso, difficile dopo che viene scelto l'argomento si passa agli obiettivi formativi che ormai conoscete benissimo sono conoscenze abilità competenze conoscenze quello che gli studenti devono sapere abilità devono saper fare competenze potrà consentono agli studenti di affrontare situazioni nuove quindi di essere anche autonomi ad esempio mi riferisco adesso per la classe di matematica c'è il concetto di equazioni allora noi che cosa vogliamo? qual è il nostro target? il nostro goal? il nostro obiettivo? vogliamo che lo studente comprenda il concetto di equazione e delle proprietà che ne so i criteri di equivalenza vogliamo che il nostro studente capisca la differenza tra la descrizione informale di una procedura di equazione e imparare a dare anche una descrizione dell'equazione e delle procedure note quindi teoria e pratica quindi descrivere anche e far vedere di essere in possesso delle conoscenze e delle procedure dell'equazione dato un problema perso dato un problema bisogna ideare una strategia per risolverlo ideare una strategia quindi un problem solving ovviamente una strategia per risolverlo tramite in questo caso equazione conoscere conoscere invece alcune equazioni ricorrenti che possono risolvere problemi tipici e questo potrebbe essere una sorta di ordinamento in tutto ciò il percorso didattico non è nient'altro che il percorso che il docente sceglie di seguire il percorso che didatticamente il docente ritiene valido secondo le questioni dell'apprendimento le questioni dell'argomento come deve essere trattato tramite questo argomento quali sono i passaggi ad esempio cognitivi quali stimoli adatti possono favorire l'evoluzione del processo di apprendimento quali sono gli indicatori cosa osservare che cosa bisogna stimolare che cosa bisogna ricercare durante l'attività e anche il fatto poi di verbalizzare all'inizio noi e far verbalizzare poi allo studente la verbalizzazione sicuramente aiuta a comprendere a riflettere ciò che si sta facendo quindi per arrivare all'autoconsapevolezza bene in questo video ho deciso di io i video li sto piano piano trasformando anche secondo le vostre richieste secondo le vostre esigenze e alla fine del video solitamente inserisco una parte un pochettino che è più mia una parte che riguarda delle mie riflessioni e allora io questa mattina mi sono svegliato mi sono svegliato un pochettino triste un pochettino smarrito però non per questo ho perso il desiderio la voglia di mettermi in dubbio e cercare di comprendermi e ho capito che il problema quello che stiamo vivendo anche il problema del covid non è solo inerente alla scuola non è solo un problema di sanità e non è un problema meramente economico spesso per noi il problema può diventare psicologico ci può essere stress ansia a volte addirittura demotivazione perché tutti in fondo diversi mesi fa speravamo di poter superare la situazione del covid dopo il tremendo lockdown che abbiamo vissuto la seconda ondata che era prevedibile ed è stata anche prevista invece sta esaurendo le nostre forze vitali e si abbatte nel nostro paese che ormai è stremato è impaurito purtroppo anche scoraggiato a volte osservando gli atti di queste notti anche incarognito e un'Italia a mio avviso spaccata in due anzi forse anche in tre in quattro parti sarebbe bello pensare di restare tutti uniti io noto che in questo canale meraviglioso ci contraddistinguiamo per commenti molto rispettosi molto educati molto dolci però forse adesso in pochi credono che insieme ce la faremo è una questione anche di tenuta mentale siamo a mio avviso confusi sfibrati mi è capitato di leggere e di osservare che insultiamo i virologi perché hanno magari la colpa di dire il vero e spesso è più facile prendersela contro chi ci indica il problema piuttosto invece che prendersela e affrontare il problema stesso la tragedia a mio avviso è mondiale e si somma a tutte le mancanze e alle crisi che erano in atto a mio avviso ben prima che ci fosse il covid anche crisi del mondo della scuola ovviamente sembra quasi un mondo che va al rovescio che gira al rovescio quando tutti speravamo nei corsi e nei concorsi c'è stato il buio più totale adesso che desideriamo noi insegnanti essere salvaguardati ci troviamo a dover fare ore di treno per partecipare al concorso straordinario i più fortunati perché quelli meno fortunati sono rinchiusi a casa in quarantena questo a mio avviso crea una cappa di copezza di pesante tristezza dolore che si abbatte più forte che mai c'è un disordine a mio avviso generalizzato che rende la sfida della ripresa in prova bisogna non arrendersi e non cedere mentalmente bisogna dare e avere pazienza bisogna credere nel mutuo aiuto dovremo essere molto forti e molto bravi